La manifestazione è denominata il 25esimo trofeo Marco Magelli sulla strada di Nivola perché è una manifestazione che ha la doppia valenza da questo punto di vista quindi è in memoria di Marco e in onore di Tazio non a caso partiamo qua a Casteldario la manifestazione è circa 140-150 km il percorso partirà fra un attimo, abbiamo 10 anteguerra, un gruppo di auto molto importanti e più tutto il resto andrà sui colli morenici, ci saranno una sessantina di prove corometrate faranno una tappa a metà del percorso circa per un ristoro a Monzambano e poi torneremo sulle terre di interazione volare per il pranzo e le premiazioni che saranno ancora qua a Casteldario quindi un percorso simpatico sui colli che visiterà le zone di cantina e le zone mantovane e limitrofe non voglio parlare del tempo perché questo mi sembra abbastanza chiaro quindi non ci sta aiutando da questo punto di vista ma posso dire che la passione non ha tempo, non ha età perché vedere tutte queste belle macchine oggi qua a Casteldario, paese natale di Tazio Nuvolari partire a una manifestazione a lui dedicata arricchita inoltre della commemorazione del nostro Marco Magelli che è la 25esima edizione è uno spettacolo grazie 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 Grazie.